C'è un problema, gli sbarchi, ora parleremo poi dei dati, le percentuali... Adesso, secondo il Premier Libico, stanno per arrivare 800.000 persone. Dice Di Maio, vabbè, ora abbiamo fatto le azioni simboliche, chiudere i porti, non farne scendere 40, 70, ma davanti a minimo 6.000 persone, potenzialmente 800.000, serve una politica più di ampia visione. Certo. Le che dici? Ovvio che occorre coinvolgere l'Europa, occorre lavorare per la pace in Libia, e questo sto facendo, sta facendo il governo italiano, ne sono orgoglioso, perché gli errori che sono stati fatti in Libia, in Iraq, in Afghanistan, li stiamo pagando ancora adesso, con le bombe, i missili e i carri armati, non si risolvono i problemi. Da Ministro dell'Interno, la responsabilità di garantire la sicurezza a 60 milioni di italiani, presidiando e difendendo i confini via mare e via terra, e stiamo lavorando anche in caso di emergenze, che io spero non ci siano, perché in Libia spero che tutti usino la testa, anche le grandi potenze, e quindi la si smetta di giocare la guerra, anche perché ci sono... Ma sono i nostri servizi che dicono 6.000 partono. Le dico di più, per cui stiamo lavorando giorno e notte. Ci sono 500 terroristi dell'ISIS, terroristi islamici, nelle carceri libiche. E quindi se c'è un missile che va nel posto sbagliato e ne scappano 50, 100, 200, 300, 400 o 500, e salgono sul primo barcone, è chiaro ed evidente che impedire l'ingresso di barchini, barconi, barchette, nelle acque territoriali italiane o avvicinarsi ai porti italiani, adesso è ancora più importante. Sì, ma come fa a impedirlo? 6.000 persone? Che fa le ferme a tutte? L'abbiamo fatto fino adesso. Si entra col permesso, come in qualsiasi altro paese civile. Questi sono rifugiati perché scappano da una guerra? No, al momento fortunatamente guerra non c'è. Ci sono scontri, ma non c'è la guerra. Cioè lei, perché la 30, la ministra e la difesa, quindi il suo omologo, interni e difesa, per stare tranquilli, gli italiani pensano interni e difesa. La difesa dice il contrario. Scappano da là, quindi sono da accogliere in quanto rifugiati. Se ci fosse la guerra, sarebbero tutti rifugiati. Ancora fortunatamente non c'è la guerra. Cioè come mi definisce guerra, ministro? Mi definisce guerra. Ma guardi, ci sono alcune decine di morti, 20.000 sfollati e alcuni feriti che stiamo accogliendo anche in Italia, negli ospedali italiani. Perché noi stiamo continuando in silenzio ad accogliere chi scappa dalla guerra e chi arriva in aereo. Donne, bambini, anziani e invalidi arrivano in Italia in aereo. Ma siccome sui barconi c'è la possibilità che arrivino dei terroristi e gli scappistico... Sì, però lei mi basa la Costituzione italiana. Non che sia una cosa bella, perché io capisco quello che lei dice. Non si arriva in Italia senza il permesso. Non escono né tutti buoni né tutti cattivi. Non si arriva in Italia senza il permesso di arrivare in Italia. Ma sulla base della legge lei deve accoglierli e scegliere. No, no. Se ho il rischio che mi arrivi un terrorista in Italia, rischio dei processi, sì. Non mi interessa, mi possono denunciare. Ma rischia di andare contro la Costituzione? Io non do l'autorizzazione allo sbarco a neanche un barcone. Se è a rischio per la sicurezza italiana. Ok? Ok. Lei non dà l'autorizzazione e quelli sbarcano uguale. No. Sbarcano uguale. No. Sono sbarcati in 70 a Lampedusa. L'autorizzazione la dà il ministro dell'interno. Ma venivano dalla Tunisia e sono sbarcati. Perfetto. Si, pensi a quelli che escono dalla guerra. Pensi alle reazioni internazionali. Pensi alle reazioni all'interno di questo paese. Anche se lei è convinto di aver ragione. Quali possono essere le conseguenze di un atto contrappeggiato? Qualcuno che c'era con Salvini ci sarà sempre. Qualcuno che dice che Salvini ha torto ci sarà sempre. Magari sa ragione. Benvenuti. Non mi interessa. Allora.